No, ma adesso ce lo deve spiegare com'è che il più grande è colui che serve. Benvenuti in quest'altro commento a letture della Domenica, che è 29 mesi al tempo ordinario. Piccolo preambolo, ho potuto ascoltare un video in cui si affermava come non è per forza necessario dover perdonare qualcuno per stare bene, per non lasciarsi attraversare da un trauma o farlo permanere all'interno, per cui è giusto anche non perdonare. Opinabile assolutamente questa posizione, si può scegliere di non perdonare, ma non è, come qualcuno ha detto, un retaggio del cattolicesimo che obbliga praticamente la persona a dover perdonare, perché sulla base del perdono c'è un dialogo, c'è una riappropriazione di relazione, c'è comunque un benessere generale. Ecco, non sono affatto d'accordo con questa posizione che è molto generalizzante e con me è d'accordo anche tutta quella branchia della psicologia umanista in cui desidera portare la persona, l'individuo, al perdono. Non tanto è per forza dell'altro, quanto il perdono di se stessi. E tutto quello che ne consegue da un abbandono, un tradimento, un trauma, un'enorme delusione. Ma di tutte queste cose sicuramente un giorno parleremo. Torniamo a noi e, prima lettura e seconda lettura, insieme ci parlano di colui che dovrà sacrificarsi affinché si possa creare una generazione, non solo che creda al suo nome, ma che faccia permanere nella storia quello che è il più grande sacrificio che un Dio possa fare per il bene del suo popolo, per il bene dell'umanità. E c'è quello di caricare il peccato, quello di morire in favore degli altri. Rendiamoci conto che nelle religioni antiche, quelle politeiste o anche quelle un po' più animiste, quelle legate un po' alla natura, fanno riferimento, fosse un animale, fosse una persona. Ecco, l'idea di colui che si sacrifica per gli altri, per il prossimo, c'è sempre stata e sempre, tra l'altro, ci sarà. Nella teologia e nella struttura del cristianesimo, soltanto un Dio che ha la vita in sé, in maniera perfetta, in maniera totale, può donare la vita, riprendersi la vita, risorgere in questo caso per non morire mai più e dare agli altri la possibilità di credere a tutto quello che lui ha fatto. E proprio sulla scia di questa necessità dell'alterità, dell'oltre, del dopo la nostra morte, della cosiddetta vita eterna, di quello che non meritiamo dopo questo periodo di vita mortale, ecco, Giacomo e Giovanni nel testo del Vangelo desiderano stare vicino al Signore. Loro che hanno lasciato tutto, come ci ha ricordato Pietro nell'altro Vangelo, quello di domenica scorsa, desiderano addirittura avere già la salvezza e lo vogliono sapere ora. Negli altri dieci si innesca quindi tutta una serie di invidi e di gelosie. Il maestro chiarisce bene la posizione che se vogliamo avere la vita eterna, il più grande, il primo su questa terra dovrà essere il servitore. Alla sua maniera, come ha fatto lui, che si riconosce sì come figlio di Dio, più che altro come figlio dell'uomo, ma la sua onnipotenza sta proprio nel fare la cosa che tutti vorrebbero scartare, e cioè morire. Questo tipo di servizio, vogliamo dire anche schiavitù in senso più ampio, fa perdere la vita, ma in realtà la riacquista. E come? Con la vita eterna. Queste parole sono piuttosto dure, ma è una realtà che sulla bocca del maestro o viene accettata da noi e ci crediamo, oppure poniamo sempre i nostri dubbi. Ma noi siamo in cammino, noi siamo su quella strada, molto spesso in salita, verso la resurrezione e la vita eterna. A tutti voi, come sempre, concludendo ogni video, buona domenica.